Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento Meteo di Antenna 2. Una Pasqua con tempo discreto sul nostro territorio, infatti una variabilità interesserà gran parte dei rilievi orobici. Ecco, questa variabilità caratterizzata proprio da un flusso perturbato proveniente dal nord atlantico che ha fatto scendere le temperature nella giornata di oggi e ha riportato la neve sul nostro territorio oltre 1500 metri di altitudine. Domani avremo una giornata con tempo in prevalenza variabile con un po' di instabilità e qualche locale scroscio specie in prossimità dei nostri rilievi. Andrà un pochino meglio nella zona della Medio-Bassa Valle Seriana e Lago di Sio dove qualche sprazzo di sole potrà caratterizzare proprio la Pasqua. Avremo ancora venti piuttosto freschi provenienti dai quadranti nord-occidentali che manterranno sul nostro territorio un clima decisamente fresco per il periodo. Ecco, come andrà poi nel corso della settimana? Avremo una Pasquetta ancora caratterizzata dalla variabilità e con qualche scroscio di pioggia specie ancora in prossimità dei nostri rilievi orobici quota delle nevicate oltre 1600-1700 metri di altitudine. Vedete come resteremo anche nella prossima settimana un pochino bersaglio di queste correnti nord-occidentali per cui il tempo rimarrà piuttosto instabile ancora per qualche giorno con temperature più basse rispetto alla media del periodo mentre l'anticiclone dominerà invece la Scandinavia e la Russia. Andiamo all'evoluzione del tempo per domani Pasqua. Vedete come ancora qualche locale pioggia interesserà in mattinata la zona dei rilievi orobici mentre un tempo variabile, spiccatamente variabile, con alternanza di nubi e schierite interesserà la zona della medio-bassa valle seriana e lago di Iseo. Pressione atmosferica piuttosto bassa, infatti saremo sempre in una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio abbiamo indicato un tempo vivace con nuvole alternate sempre di più a schierite e anche acquazzoni che si estenderanno nel pomeriggio sera anche a gran parte del nostro territorio della valle seriana e quindi potremo avere delle piogge soprattutto in serata anche nella zona della medio-bassa valle seriana e lago di Iseo nevicate che nella notte fra domenica e lunedì scenderanno fino a quota 1.500 metri di altitudine. Andiamo al tempo di Pasquetta. Purtroppo il tempo resterà ancora un pochino instabile, variabile con possibilità, specie nelle ore centrali della giornata di qualche scroscio di pioggia e qualche locale nevicata ancora oltre 1.600-1.700 metri di altitudine. Zero termico a 2.200 metri di altitudine e temperature a Clusone comprese fra gli 8 gradi di minima e 13 gradi di massima. Tempo che migliora fra martedì e mercoledì con un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso temperature in graduale ripresa ma comunque abbastanza fresche e massime che a Clusone non supereranno mai i 15 gradi. Zero termico in risalita a 2.600 metri di altitudine e pressione atmosferica anch'essa in aumento a 1.014 millibar. Giovedì abbiamo indicato ancora tempo vivace, movimentato, tipico primaverile con ancora possibilità di qualche scroscio di pioggia, qualche acquazzone in montagna con quota nevicata e questa volta più elevata oltre 2.000 metri di altitudine. Venerdì torna la forte variabilità e l'instabilità atmosferica. Infatti saremo bersaglio di una nuova circolazione depressionaria che si andrà a scavare sul Golfo Ligure riportando le piogge su gran parte del nostro territorio però con temperature decisamente più elevate rispetto ai giorni precedenti con massime che a Clusone arriveranno a 16-17 gradi. zero termico a 2.700 metri di altitudine e quota delle nevicate oltre 2.200 metri di altitudine. Vi faccio gli auguri di buona Pasqua e per il Mettetutto a voi la linea!